E' qui! Credo che questo piano funzionerà. Nessun piano regge quando sei davanti al nemico. E' come reagirai agli imprevisti che determinerà se tu e i tuoi fratelli avrete successo. Sensei, dimmi, secondo te sono pronto? Leonardo, c'è una ragione se ti ho eletto leader. E mi puoi spiegare qual è? Questa è una cosa che dovrai scoprire da solo. Però la posta in gioco è molto alta. Se qualcosa andasse storto... Il fallimento è un'eventualità che ogni leader deve affrontare, Leonardo. Ho dovuto farlo anch'io quando ero in Giappone, nella battaglia finale con il mio nemico. Capisci di cosa ho paura, Sensei? Tu, per esempio, hai perso tutto. Sì, ho perso molte cose. La mia famiglia, la mia casa, il mio nome. In compenso ne ho guadagnate tante altre. Ad esempio ora ho voi quattro. Non preoccuparti, salveremo quella gente. Tanta, non mi spugni!